Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo sigla, e poi ci diamo dentro quel video. Oggi ragazzi e ragazze parliamo nuovamente di un caso che ha avuto inizio proprio su internet. Qualcuno mi ha consigliato di parlare di questo caso sotto i commenti del mio video su Cristina Long. Un caso che ha come filo conduttore due elementi, internet e la musica. Però non parliamo di una musica qualsiasi, bensì di un genere musicale particolare chiamato horrorcore. L'horrorcore è un sottogenere della musica rap, hip hop e i testi di queste canzoni, come già avrete potuto intuire dal genere, trattano temi principalmente legati al macabro. Quindi in queste canzoni si parla di crimini, di violenze, di delitti e di tante altre cose che non mi posso dire perché altrimenti YouTube si emoziona. In ogni caso non è proprio un genere musicale tranquillo e leggero, ma oggi non siamo qui per giudicare chi apprezzo o meno un genere musicale. In quanto io stesso spazio dai System of a Down a Billie Eilish, adoro il punk, l'hard rock, ma allo stesso tempo adoro anche i Coldplay, i Man for the Song. Inoltre devo ammetterlo, mi piace il rap, non la trap, quella non tanto. Mi piace il rap old school però. Ultimamente sono iniziando anche ad apprezzare l'indie, quindi ragazzi io alzo le mani. Ognuno ha le sue preferenze musicali ed è giusto così. Però arriviamo al sodo, siamo a Farmville in Virginia, che è una città rurale davvero molto piccola. A Farmville di fatto non è che ci sia tutta questa movida. Ci sono a malapena un bowling, un piccolo cinema e qualche bar. La conseguenza di abitare in un posto così è uno. Tutti si conoscono, tutti sanno tutto di tutti. A Farmville tutti sanno da che famiglia provieni. Quindi chi sei, cosa fai e come ti comporti. Siamo nel 2008 ed è proprio qui che vive una delle protagoniste di questa storia. Si chiama Emma Naderbrook. La ragazza ha 16 anni, è alla ricerca di un fidanzato e ovviamente è una studentessa. Debra, la madre di Emma, insegna criminologia all'università, mentre suo padre Mark è un pastore. Emma è figlia unica, i suoi genitori sono ormai separati da due anni ed Emma ne soffre molto. Arrivata a 16 anni Emma inizia a vivere un periodo che potremmo definire difficoltoso. Inizia ad essere ribelle, non va molto bene a scuola. Così i genitori decidono di far studiare la figlia a casa. E questa svolta nella vita di Emma l'ha nuovamente fatta cambiare. Inizia ad essere ancora più ribelle, si tinge i capelli con colori sgargianti e passa da un abbigliamento casual ad uno stile sicuramente più dark e punk. Inizia a truccarsi in un modo molto più vistoso e si appassiona a un genere musicale, ossia l'horrorcore. Emma conosce questo genere musicale in un forum, creato apposta per legare alcune band musicali ai loro fan. Ed è in questo modo che Emma fa amicizia con un gruppo musicale specifico. Emma inizia a stimare e a seguire con molto piacere due artisti, che fanno parte di una casa discografica proprio horrorcore, ossia la Killing Record. Questi due artisti collaborano spesso insieme. Una è una ragazza e il suo nome d'arte è Razake, mentre l'altro artista è un uomo e il suo nome d'arte è Sick. Emma quindi inizia a essere molto attiva sul forum e posta anche dei video in cui si presenta e fa vedere la stanza tappezzata dai loro poster. Ovviamente è Sick e Razake seguono i video di Emma, che su internet si fa chiamare Ragdoll. Si affezionano alla ragazza, entrano in contatto con lei ed Emma confida entrambi gli artisti di sentirsi molto sola, inadatta. Nessuno ascolta il genere di musica che ascolta lei e questo non l'aiuta assolutamente a socializzare. Per di più Emma abita in una cittadina davvero minuscola, quindi le opzioni sono anche poche per poter conoscere persone e con le sue stesse passioni. Razake quindi si rende conto della solitudine che Emma vive e la prende a cuore. Così decide di metterla in contatto con una loro fan che vive circa a 300 chilometri di distanza da Farville. La ragazza con cui Emma inizia a sentirsi si chiama Melanie Waltz. Ha 18 anni, su internet si fa chiamare Mel e ovviamente anche lei è una studentessa. Abita nella Virginia occidentale. Razake quindi scrive a Melanie chiedendo se vuole sentire Emma, una loro fan, e Melanie accetta immediatamente. Quindi le due ragazze si conoscono e di fatto vanno d'accordo. Emma era convinta che nessuno ascoltasse Seek e Razake nel giro di 700 chilometri, ma invece scopre che c'è una loro fan che vive nello stato confinante al suo. Emma e Melanie stringono amicizia online. Iniziano immediatamente a sentirsi sempre più spesso tramite messaggi, legano molto e in breve tempo iniziano a sentirsi tutti i giorni. È vero, le due ragazze vivono lontane, ma cercano di colmare questa distanza attraverso le videochiamate. Infatti stanno molto tempo al computer e parlano davvero un sacco. Dopo quattro mesi di amicizia online, Emma e Melanie finalmente si incontrano. Si mettono d'accordo per andare ad un concerto a Chicago e la loro amicizia diventa sempre più forte. Le due ragazze si trovano davvero davvero bene assieme. Inoltre sono davvero molto simili e non solo per i gusti musicali. Razake e Seek nel frattempo condividono il video che Emma aveva postato sul loro forum, in un gruppo in cui erano presenti solo ed esclusivamente loro fan. Grazie a questa cosa, ben presto Emma diventa realmente famosa, quantomeno in quel contesto si intende. Tutti iniziano a sapere chi sia, la trovano carina e quindi iniziano a contattarla. Emma quindi sente molte persone ed è felicissima, perché finalmente non ha trovato solo un'amica che la capisce e la ascolta, ma è riuscita letteralmente ad entrare in una comunità di persone che condividono i suoi stessi gusti in fatto di stile, moda e musica. Quel video viene visto davvero da centinaia e centinaia di fan. E tra quei fan, purtroppo, non sono tutti buoni e gentili. Razake ovviamente non poteva saperlo, anche perché è difficile capire online se qualcuno abbia brutte intenzioni, specialmente se è brava a fingere. E fingere online è molto più facile rispetto a fingere nella realtà. Infatti ben presto Emma viene contattata da un certo Sam, anche lui fan dell'Horror Corps. Sam inizia immediatamente a riempire di complimenti a Emma e si guadagna la sua fiducia. Ma parliamo un attimo di Sam. Il suo vero nome è Richard Sam McCroskey. Ha 20 anni ed è un rapper dilettante. Sam abita in California, più precisamente a Castro Valley, con suo padre e sua sorella di 21 anni. Però c'è un problema. Sam è uno di quei ragazzi che non ha vita sociale al di fuori di internet. Non esce praticamente mai e sta perennemente nella sua camera attaccato al PC. Emma effettivamente prova immediatamente simpatia per Sam. Il ragazzo appara ad Emma come un tipo carino, simpatico, solare. E quindi i due, dopo poco tempo, si fidanzano online. Non si sono mai visti prima, eh. Per i ragazzi già iniziano a scambiarsi messaggi d'amore. Niente di bricconcello, per carità. Ma nel giro di un mese si chiamano tesoro, amore e dicono di amarsi. La cosa direi che è stata un po' troppo prematura. Ma online non si ha troppo la nozione del tempo. Non equivale a frequentare una persona dal vivo, vederla e parlarci faccia a faccia. E purtroppo si fa presto ad arrivare ad una conclusione errata e a vedere la persona che sta dall'altra lato dello schermo come perfetta. Certo, tramite messaggi è fin troppo semplice nascondersi, recitare una parte. Sam forse lo fa senza neanche rendersene conto, ma di fatto non riusciva a socializzare con nessuno di persona. Riusciva solo a sentire persone tramite internet. Poco tempo dopo, su internet, Razza che le Sikh annuncia lo che ci sarebbe stato un festival horror core a Detroit, nel Michigan. Non è sicuramente vicino, infatti da Farmville a Detroit ci sono circa 1038 chilometri che corrispondono a 10 ore di macchina. Ma Melanie ed Emma cercano di convincere i loro genitori per poter andare a questo festival e potersi rincontrare. Kathleen, ossia la madre di Melanie, dice immediatamente alla figlia che può andare. Mentre Emma sì, vorrebbe andarci, ma non solo con Melanie, anche con Sam. Il ragazzo di cui si è tanto innamorata online. Quindi Emma ne parla con suo padre, Mark, che ovviamente va a parlare della situazione anche con sua madre, Deborah. E alla fine entrambi decidono di mandare la figlia a Detroit. Specialmente perché è da parecchio che non vedono Emma così felice e loro volevano davvero solamente rivedere la loro bambina contenta. C'è però una condizione. I genitori di Emma, Deborah e Mark, le dicono che li avrebbero accompagnati loro in macchina a Detroit. Emma è al settimo cielo. La condizione dei suoi genitori le sta più che bene e quindi va immediatamente ad avvisare Melanie e Sam. A questo punto Melanie raggiunge Emma dalla Virginia occidentale e i genitori di Emma si preparano per andare a recuperare Sam all'aeroporto di Richmond. È l'11 settembre del 2009. Gli accordi erano che Sam, dopo il concerto, si sarebbe trattenuto a casa di Emma per un'ulteriore settimana. Purtroppo però Emma, che non conosce da vivo Sam, non ha una buona sensazione. Lo trova strano e non le pare che quel ragazzo sia lo stesso con cui ha messaggiato per sette mesi. Emma si sente profondamente a disagio quando il ragazzo l'abbraccia o si avvicina. E l'idea che il ragazzo debba stare con lei anche la settimana successiva al concerto non la fa certo impazzire di gioia. In ogni caso, i tre ragazzi con i genitori di Emma iniziano il viaggio verso Detroit. E Sam, durante il viaggio, prova a stringere la mano di Emma con disivoltura. Ma Emma è davvero in difficoltà. Si sente a disagio. E quindi sfila la mano dalla sua più volte. Questo perché Emma non vuole avere assolutamente un contatto diretto con Sam. A tarda sera il gruppo arriva a Detroit. E Razaki e Lesik stanno nello stesso albergo dei loro fan. E così Emma, Melanie, Sam e i genitori di Emma se ne vanno a dormire. In attesa del giorno dopo. Emma, Melanie e Sam avrebbero potuto conoscere i loro artisti preferiti. L'ambiente era davvero informale. Tranquillo. Razaki e Lesik sono tranquillissimi. Parlano con i loro fan. Fanno foto con loro. E appena Emma e Melanie li vedono corrono immediatamente ad abbracciarli. Passano quindi qualche tempo assieme e fanno quattro chiacchiere. E ovviamente insieme a Melanie e Emma c'è anche Sam. In quel contesto in effetti riescono a fare quattro chiacchiere in gruppo. Ed è in questo caso che Emma capisce definitivamente che quel Sam non era lo stesso ragazzo che aveva conosciuto online. È a disagio e si vede e cerca di non stargli troppo vicino. E quando Sam prova davvero un contatto lei si allontana immediatamente da lui. Emma non lo fa neanche apposto. È quasi un riflesso involontario. Sam non le dava assolutamente una buona impressione. Arriva qui nel concerto e Melanie ed Emma sono letteralmente sotto il palco a urlare tutte le canzoni di Razakil e Sik a memoria. Però c'è una cosa che salta all'occhio. Sam non è con loro. È in disparte, in fondo al locale. Sam si sente letteralmente messo in disparte anche perché era convinto che per quel concerto si sarebbe visto solo con Emma, non anche con Melanie. Sam è arrabbiato già per questo fatto però a un certo punto viene anche messo davanti ad un'evidenza. Non riesce davvero a legare con nessuno. Sam si sente letteralmente rifiutato da tutti anche da Emma che pensava essere la ragazza giusta per lui. Passa il tempo e il concerto quindi si conclude e Melanie ed Emma devono affrontare altrettante dieci ore di ghiaggio con Sam per tornare a Farwell. Ovviamente sono anche in questo caso accompagnati dai genitori di Emma. Come sono stati accompagnati all'andata vengono accompagnati al caritorno. Sam è strano. Le ragazze iniziano quasi ad avere timore di lui ma di fatto erano arrivati tutti insieme e non potevano certo mollarlo a Detroit. Mentre le ragazze durante il viaggio crollano stanche e si addormentano Sam rimane sveglio per tutte e dieci le ore. E domenica 13 settembre attorno alla mezzanotte arrivano a destinazione. Emma come vi ho detto non è al settimo cielo di dover ospitare Sam ancora per un'ulteriore settimana. Ma l'aveva invitato e non era assolutamente nella sua indole mollarlo in giro e di lì che non era più il benvenuto. Quindi Emma fa finta di nulla e permette a Sam di rimanere. Una volta arrivati a Farmville Mark il padre di Emma torna a casa sua perché i suoi genitori come già vi ho detto sono divorziati mentre le ragazze e Debra vanno a dormire. Melanie dorme sul divano e prima di crollare manda un messaggio a sua madre dicendo che è stato bellissimo si è divertita un sacco ma aggiunge che è davvero molto stanca e quindi promette alla madre che l'avrebbe contattata il giorno dopo e poi si mette a dormire. Arriva il giorno dopo e Kathleen la madre di Mel prova a chiamare sua figlia senza alcun risultato. Melanie non risponde al cellulare così per tutto il giorno. Non riesce letteralmente a rintracciare la figlia il telefono squilla vuoto. Quindi Kathleen la madre di Melanie inizia a contattare diverse amiche di Melanie fan dell'horror core per capire se sapevano qualcosa ma anche in questo caso non c'è alcun risultato nessuno sa dove si trova Melanie. Kathleen la madre di Melanie alla fine decide anche di chiamare i ragazzi della band Sick e Razakel. I due artisti vivono ad Albuquerque nel New Messico e grazie a Kathleen la madre di Melanie Razakel scopre che Melanie Emma e Sam sono spariti sono scomparsi non si sa dove siano finiti. Razakel quindi inizia a fare qualche telefonata per cercare di capire se qualcuno avrebbe sentito i ragazzi ma anche per lei come per Kathleen non ci sono buone notizie. Quindi Razakel inizia a tempestare Melanie ed Emma di chiamate. Continua a lasciare messaggi in segreteria a Melanie dicendole che se in qualche modo aveva fatto qualche cavolata doveva per forza chiamare sua madre perché era davvero tanto preoccupata. Razakel pensava che i ragazzi avessero fatto qualche casino che fossero scappate di casa non immagina minimamente cosa sia successo per davvero. Dopo un po' di tempo continua a lasciare messaggi sulla segreteria di Melanie sempre più arrabbiata e Razakel è consapevole che se Melanie avesse ascoltato quei messaggi in segreteria l'avrebbe chiamata immediatamente nello stesso momento Kathleen ossia la madre di Melanie inizia a pensare al peggio perché sa chi non è nel carattere della figlia farla preoccupare così d'altronde Melanie aveva le sue libertà poteva fare le sue esperienze partecipava a diversi concerti e Melanie ha sempre tenuto aggiornata a sua madre dei suoi spostamenti perché è una ragazza giudiziosa vuole bene a sua madre non vuole farla preoccupare Razakel continua a chiamare Emma e Melanie ma a quel punto il cellulare neanche squilla più a vuoto parte direttamente la segreteria telefonica a questo punto Sik e Razakel iniziano a chiedere ai loro fan online di fargli sapere se avessero avuto notizie di Sam Melanie o Emma in quanto erano letteralmente scomparsi nel nulla Razakel a questo punto viene contattata da un amico di Sam un loro fan che si fa chiamare Big Dog e chiama immediatamente quando legge che Razakel e Sik hanno scritto quella cosa online ma purtroppo non sa niente però promette a Razakel che si sarebbe informata in quanto Sam era un suo amico a questo punto non restava che attendere contemporaneamente la madre di Melanie Kathleen a questo punto è davvero preoccupata ma tanto preoccupata inizia quindi a contattare la polizia locale ma sua figlia è già maggiorenne quindi è consapevole che non avrebbe avuto un pieno aiuto dalle forze dell'ordine almeno non in modo tempestivo insomma quindi Kathleen in un tentativo disperato chiama la polizia di Farville e gli comunica che iniziava a temere che ci fosse stato un incidente quindi chiede se è possibile fare un controllo negli ospedali locali ma anche in questo caso la chiamata va a vuoto in quanto a Farville nessuno ha ricevuto notizia di un incidente stradale Melanie e i suoi amici pare siano svaniti del nulla e Kathleen non sa più cosa diavolo fare quindi chiede letteralmente a suo marito Jerry di andare a Farville per capire cosa si è successo Jerry si fa ben cinque ore di macchina e arriva fuori da casa di Emma di conseguenza inizia a suonare la porta senza però ottenere alcuna risposta poco dopo appare un ragazzo che sostiene di essere un vicino di Emma e comunica a Jerry che momentaneamente le ragazze non erano a casa ma sarebbero tornate presto quindi Jerry è convinto non si sa per quale motivo che sua figlia e i suoi amici stiano bene e rassicurato dalle parole del vicino risale in macchina per tornare a casa in questo caso ragazzi e ragazze lo ammetto vicino o non vicino io avrei piazzato una tenda fuori da casa di Emma per aspettare il ritorno delle ragazze proprio per verificare con i miei stessi occhi cosa stessero combinando erano ore oramai che non si facevano sentire e in questa situazione col cavolo che avrei creduto alla parola di un vicino di casa che peraltro neanche conosco infatti il vicino con cui ha parlato Jerry non è un vicino ma Sam a questo punto Kathleen a prescindere da quello che l'ha detto il marito Jerry prova a chiamare Emma a casa sul telefono fisso e sorpresa sorpresa risponde Sam che sostiene che Melanie Emma ed Ebra sua madre siano andate a cena fuori ma la loro auto aveva avuto un guasto e quindi erano lì ad aspettare il carattrezzi di conseguenza Sam invita Kathleen a provare a richiamare più tardi Kathleen ovviamente continua a provare a chiamare per tutta la notte senza ottenere risposta fino a quando non arriva la mattina dopo quando Sam risponde al telefono cambiando però la versione questa volta Emma Mel ed Ebra erano andati dal padre di Emma ossia Mark Mark è separato da Debra la madre di Emma ma abita ancora a Farmville e quando riceve la chiamata di Kathleen dice chiaramente di non aver più visto i ragazzi dopo averli portati a casa dal concerto e quindi decide di andare a casa di Debra la sua ex moglie per capire se sia tutto a posto ovviamente Mark abita appena a 10 minuti dalla casa di Debra e quindi promette a Kathleen che appena sarebbe arrivato lì avrebbe chiamato immediatamente Mark quindi arriva a Farmville ed è consapevole che Sam è ancora in casa entra in fretta e inizia immediatamente a chiamare a gran voce Emma e Debra peccato che anche lui scompaia nel nulla Kathleen aspetta notizie di Mark che però non arrivano il telefono di Kathleen però suona nuovamente ed è di nuovo Sam a chiamarla le dice di non aver assolutamente visto Mark andare lì e aggiunge anche un'altra cosa un po' strana secondo me sostiene di aver sentito delle voci e qualcuno di sconosciuto a girarsi nella casa di Emma più precisamente Sam dice alla madre di Melanie ossia Kathleen che è sicuro che ci sia qualcuno nel seminterrato ed è spaventato la madre di Melanie ovviamente invita Sam a provare a chiamare la polizia e il ragazzo la chiama davvero a questo punto chiunque si aspetterebbe che Sam non sia il colpevole chi è quel testa di cocomero che commette un crimine e poi chiama la polizia gli agenti arrivano quindi a casa di Debra e Emma e Sam va a aprirgli come se nulla fosse conduce quindi il detective nel seminterrato che però non trova nulla quindi il detective se ne va tranquillamente lasciando Sam da solo a casa di Emma e Debra continuano ad esserci traccia delle ragazze e anche il padre di Emma Mark è sparito nel nulla nel frattempo Razakiel e Sick ricevono una chiamata da un loro fan amico di Sam che si feceva chiamare Big Dog il ragazzo dice a Razakiel che aveva appena finito di parlare con Sam che gli aveva comunicato di aver freddato tutti quanti ossia Melanie Emma Debra e Mark Razakiel ovviamente reagisce malissimo scoppia in un pianto disperato e non ha idea di cosa fare o di cosa pensare a questo punto a distanza davvero di pochissimi minuti Kathleen chiama Sick e il ragazzo non può far altro che dire la verità il ragazzo deve dire a Kathleen la madre di Melanie che la figlia non c'è più Sick sostiene che la donna dopo aver appreso la notizia ha fatto un urlo al telefono che non avrebbe mai più dimenticato per il resto della sua vita la disperazione di una madre che perde la figlia ad ascoltare è devastante Razakiel e Sik stanno davvero male ma si fanno forza e contattano la polizia di Farmville che purtroppo una volta entrati in casa di Emma ed Ebra trovano i quattro corpi senza vita delle vittime però nasce una domanda come mai il detective che aveva chiamato Sam non aveva assolutamente trovato quei corpi probabilmente Sam li aveva nascosti ma quindi perché poi rimetterli in bella vista nel salotto insomma i poliziotti trovano i corpi in men che non si dica però c'è un problema Sam non c'è quindi hanno una priorità trovare quel ragazzo fortunatamente una guardia di sicurezza dell'aeroporto di Richmond riconosce Sam e lo trattiene fino all'arrivo della polizia Sam quindi viene arrestato dalla polizia con l'accusa di aver freddato Melanie Emma e i genitori di Emma per evitare la condanna a morte accetta l'offerta del pubblico ministero Sam sostiene che dopo essere tornati dal concerto la notte del 13 settembre sentendosi totalmente rifiutato da Emma aveva ben pensato di mischiare sostanzioni particolari alcol e farmaci cocktail perfetto dopodiché aveva trovato fuori da casa di Emma un'ascia e aveva deciso di usarle con tutte le persone all'interno di quella casa la prima che fredda è Melanie che dorme nel salotto sul divano poi va al piano di sopra e fredda anche Emma e sua madre tre giorni dopo quando Mark va a casa di Debra ed Emma per vedere se è tutto ok Sam fredda anche lui in questo modo si conclude la storia di Sam McCroskey che viene condannato all'ergastolo onestamente ragazzi devo davvero ringraziarvi per avermi messo la pulce nell'orecchio per questo caso perché davvero l'ho trovato molto molto interessante specialmente perché parte tutto dalla musica che sia horror che sia un altro tipo di musica è davvero davvero brutto pensare che un concerto possa creare una situazione del genere ovviamente Sam era molto bravo a non far capire quali fossero i suoi problemi anche se onestamente guardando su internet la faccetta da uno che non è che ci stesse tanto bene con la testa secondo me ce l'aveva e come detto questo ragazzi la morale è sempre questa fate balla lecce come diceva mio zio ossia state attenti non vi fidate ciecamente di tutte le persone che conoscete online perché davvero possono rivelarsi esattamente l'opposto di quello che voi crediate siano spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento noi ci vediamo prestissimo al prossimo video vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi mangiate sempre le verdure ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva ci vediamo